Marco Nuti, un grande ritorno alla GSM Forum, tre anni per te da protagonista in maglia Blue Volley. Innanzitutto devo chiedere le emozioni di tornare qui. Sicuramente è una grande emozione perché dopo ho vissuto tre anni della mia vita qua in questa bellissima città e in questo stupendo palazzetto. Ho dei bellissimi ricordi e quindi sono veramente contento di essere qua oggi e vedere che il palazzetto è strapieno come ai tempi che ho trascorso io. Quindi questo vuol dire che il movimento sta andando avanti e sono molto felice di questo. E poi da intenditore di pallavolo la Calzedonia ai playoff sfiderà Civitanova. Che sfida sarà? Sarà una sfida secondo me abbastanza equilibrata perché Verona ha un buon organico, un ottimo organico. Quindi se la potrà giocare tranquillamente anche se naturalmente Civitanova partirà da favorita. Però la Verona specialmente qua in casa penso che se la possa giocare tranquillamente.